Salve a tutti, mi chiamo Carlo Salvatore Terzo Lacomi, sono un artista progettista del paesaggio Glocal. Sostanzialmente mi occupo dei processi di visione e di viazione nella progettazione creativa e nei sistemi di marketing culturale. E' con questa piccola premessa che vi voglio presentare un indietro progetto di food design e di packaging tecnologico. Questo è un prototipo di cioccolatino 2.0, una tavoletta di cioccolato che rappresenta simbolicamente un microchip, avvolti in alluminio dorato che rimane istantaneamente una sorta di sim card, particolarmente piacevole tra le mani per peso e dimensione. Sul retro è presente una piccola etichetta tecnologica, una tag NFC in grado di fornire tantissime informazioni sul prodotto, in maniera inedita con particolari funzioni tecnologiche come di realtà aumentata, molto efficace e funzionale in termini di web marketing e di promozione aziendale. Ovviamente di facilissima fruizione e condivisione grazie a di smartphone di ultima tecnologia che sono nelle mani di tutti i consumatori di oggi e di domani. La grande innovazione del prodotto però sta nella semplicità e nell'originale bilanciamento del design che simbolicamente definisce la sua funzione tecnologica, il microchip. Il marchio è registrato col nome di Microchip, Microchip e Chocolate, del resto si sa, il gusto e la tecnologia creano le esperienze. Grazie a tutti! Grazie a tutti!